Il presunto assassino di Francesco Augeri si è costituito. Lo fa nel giorno del funerale dello studente. Ha un volto e un nome, il giovane che all'alba di mercoledì scorso avrebbe accoltellato il 23enne deceduto nel corso di una rissa scoppiata in una piazzetta di diamante, ferendo anche un 28enne napoletano. Da quella tragica giornata i carabinieri della Compagnia di Scalea, coordinati dalla Procura della Repubblica di Paola, hanno lavorato senza soluzione di continuità. Un lavoro impegnativo sviluppato attraverso una ricerca certosina di tutti i possibili testimoni e che ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di raccogliere inconfutabili elementi a carico di un 19enne di origine napoletana, nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di indiziato di delitto a firma del procuratore Pierpaolo Bruni e del sostituto Francesca Maria Cerchiara. Nel pomeriggio di domenica il giovane, che si sentiva braccato dai carabinieri di Scalea, che già dalla mattinata di giovedì erano sulle sue tracce, probabilmente non potendo reggere ancora la pressione esercitata, ha deciso di costituirsi presso il carcere di Napoli, Secondigliano. Il giovane presenta delle ferite al volto che potrebbero dimostrare un suo coinvolgimento nella lite nata da futili motivi nelle vie antistanti il centro stoico di Diamante. Quella notte il 28enne è rimasto ferito anche egli di origine campane, mentre passeggiava avrebbe avuto un primo diverbio con il gruppo di ragazzi che si ritiene capeggiato dal fermato, causato da quella che sembrerebbe una spinta involontaria. Il giovane è quindi raggiunto a Ugeri. Pocchi minuti più tardi avrebbe avuto un'altra discussione ancora più accesa, con lo stesso gruppo nei pressi della piazzetta Padre Pio. Dalle parole si è così passati alle vie di fatto, venendo alle mani. Proprio in quei momenti il 19enne avrebbe estratto un'arma da taglio con cui avrebbe accoltellato mortalmente Francesco e ferito il 28enne. Ovviamente le indagini continuano sempre d'intesa con la procura di Paola per definire esattamente i ruoli degli altri coinvolti nella vicenda.